Una data che ha cambiato la storia della Repubblica. Nello stesso giorno, il 9 maggio 1978, veniva trovato a Roma il corpo di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse, mentre in Sicilia veniva assassinato il giornalista Peppino Impastato, in prima linea nella lotta contro la mafia. Due tragedie che si sono intrecciate nell'Italia degli anni di piombo. Nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico, un incontro con gli studenti delle scuole superiori napoletane per riflettere sulla scuola come memoria del presente, 40 anni dopo. Due vicende apparentemente lontane, ma specchio di una delle epoche più buie della nostra Repubblica. Oggi parlare di queste vicende significa non stancarsi di ricercare la verità fino in fondo, perché non ci può essere Repubblica compiuta e matura e forte se non si ha il coraggio di individuare la verità fino in fondo oltre qualunque ragione di Stato talvolta macchiata di sangue. Mai come in questo momento storico, come ci dimostra la sentenza di Palermo sulla trattativa, c'è un filo rosso e nero che guida la storia degli ultimi 50 anni del nostro Paese. Quindi credo che c'è ancora tanta verità da ricercare, da individuare e da rappresentare al popolo italiano.